È giusto dare risalto ad un importante traguardo che l'istruzione statale ha raggiunto nel nostro territorio, si tratta della chiara fama che caratterizza il Centro per l'Istruzione degli Adulti CPA di Parma, una tipologia particolare di scuole che il Ministero dell'Istruzione del Merito mette a disposizione in ogni provincia italiana, essa permette agli adulti e ai giovani non più in età scolare che hanno bisogno di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di poter acquisire i saperi di cui hanno bisogno, una caratteristica che ovviamente attira molti stranieri che hanno bisogno di integrarsi. Una scuola statale che con i suoi corsi disseminati in tutta la provincia e in carcere costituisce un esempio positivo portato avanti all'insegna dell'inclusione, dell'integrazione fra culture diverse e dell'accoglienza. Spesso si rivolgono alla nostra associazione sindacale e professionale, costituita unicamente da docenti della scuola statale, anche persone che, profane, del nostro ruolo ci riferiscono di fatti e situazioni scolastiche di vario tipo che esulano dalla nostra funzione. In questi, involontari, momenti di ascolto ci è capitato di aver avuto colloqui con alcune persone straniere che vivono nella zona di Via Micheli, nel quartiere San Leonardo, in questi frangenti abbiamo potuto raccogliere il loro plauso, un apprezzamento positivo che già in altre occasioni avevamo registrato, per questo riteniamo cosa buona e giusta che anche altre scuole della città cerchino di replicare quanto di positivo mettono in campo i nostri colleghi docenti assegnati al CPA.